Oltre 4.000 ai ragazzi di 8 scuole superiori e media della provincia di Caltanissetta che hanno aderito all'iniziativa Io ho scelto Contro il Bullismo, promossa dalla prefettura, dall'ufficio scolastico provinciale e dall'associazione siciliana Anti-Racket, presentata nel corso di un incontro all'auditorium del liceo scientifico Alessandro Volta. In ogni scuola sono state istituite delle associazioni anti-bullismo strutturate così come le associazioni anti-racket. Noi abbiamo puntato sul bullismo per combatterlo non più dall'alto con le circolari ma dal basso, quindi abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi affinché sono loro stesse che si ribellano agli atti di bullismo. Come l'abbiamo fatto? In effetti io ho accettato dal primo momento questo progetto, chiamiamolo così, e sono stato io a convocare le 8 scuole, gli 8 direttori didattici col provveditore, abbiamo fatto un piccolo briefing, dopodiché abbiamo fatto questa sperimentazione in 8 scuole che è andato benissimo, lì l'associazione ormai è vitale, ci sono 4.000 iscritti e questa giornata doveva servire ad estenderlo a tutte le altre scuole della provincia. Dopo questa giornata io spero che la comunicazione efficace porterà le altre scuole che oggi non ci saranno e non sono presenti a prendere coscienza di questa iniziativa, nulla toglie che Caltanissetta può essere un progetto pilota anche per le altre province siciliane. Noi abbiamo dato e stiamo dando gli strumenti all'appoggio perché questo avvenga, i ragazzi che aderiscono si tesserano e leggono classe per classe un rappresentante, un onorevole, gli onorevoli leggono il presidente, il presidente dialoga con il preside per qualunque problema della scuola, gli onorevoli tengono monitorate tutte le classi, ogni mese si riuniscono per fare il punto della situazione e ogni tre mesi mandano a me una mail con lo stato dell'arte su quello che abbiamo avuto già degli ottimi risultati e non è mai caduto in Italia e sarà per una volta tanto Caltanissetta leader in qualcosa, infatti ho avuto già richieste di fare questa stessa cosa a Catania, a Palermo e a Milano e ho detto che prima si fa Caltanissetta e poi si fa altrove. Tutte queste manifestazioni che coinvolgono la società civile e il mondo della scuola ci devono vedere presenti anche noi magistrati perché come abbiamo sempre sostenuto per sconfiggere l'illegalità e la mafia non basta soltanto la repressione, bisogna anche seminare tra i giovani ed essere presenti ed è per questo che oggi sono qui in rappresentanza del mio ufficio, siamo ben consapevoli che dobbiamo investire appunto sul mondo dei ragazzi e sul mondo dei giovani anche con la nostra presenza. C'è stato un cambiamento soprattutto anche quando facevamo le diverse riunioni mese per mese per parlare della situazione della classe perché comunque questa associazione non solo è composta dai soci che entrano a far parte di questa associazione ma anche dai referenti per ogni classe. Questi referenti diciamo che non hanno il compito di investigatori oppure di delatori ma soprattutto hanno il compito di far comprendere in una certa situazione che si viene a creare di far comprendere l'errore, la gravità del comportamento che si ha nei confronti degli altri oppure comunque se non riescono a far capire, se non riescono ad avere delle risposte dal soggetto coinvolto si riferiscono alla presidente che appunto sono io oppure alle preside o alla referente che è la professione.